I trattori sono equipaggiati con motore Far Motion 45 Ultra con 4 cilindri e cilindrata di 3,9 litri. Rispondono al normativo Stage 5 e grazie alla cilindrata consentono bassi consumi di carburante. Alle potenze convenzionali è stata aggiunta per ogni motorizzazione una potenza boost di circa 10 cavalli, utile nei trasporti o alla presa di forza, per aiutare la trazione nei momenti di difficoltà. Grazie a questa extra potenza si raggiungono i 126 cavalli per il modello 6.115C, Power Shift e RV Shift e 136 e 143 cavalli nei modelli 6.125C e 6.135C con tutte le trasmissioni. Per raggiungere una così elevata erogazione di potenza si è ricorso ad un'iniezione Common Rail a 2.000 bar unitamente a nuovi iniettori a 7 fori. I modelli 6.125C e 6.135C RV Shift e TTV sono inoltre dotati di turbo geometria variabile. La manutenzione è veramente semplice, il cofano si apre a compasso e tutti gli elementi di ispezione sono facilmente raggiungibili. L'intervallo cambio olio arriva a 600 ore e i radiatori sono protetti da due comode tendine. Anche la pulizia dei radiatori è molto semplice e non richiede attrezzi specifici. Il serbatoio del gasolio ha una capacità di 160 litri mentre quello dell'urea di 12 litri. Visto il basso consumo di adi blu di questi motori è sufficiente per due pieni di gasolio. Il rabbocco è facilmente accessibile anche per le persone di altezza più basso. I sistemi di post trattamento dei gas di scarico sono esenti da manutenzione. Anche il filtro antiparticolato DPF adatta un sistema di autopulizia passivo durante il normale esercizio. Solo in caso di istruzione completa del filtro occorre avviare un processo di rigenerazione che utilizza il calore prodotto dal motore.